Si conclude qui un'altra puntata di Fanny Moon Mi scuso ancora per prima quando stavo al telefonino con il mio ragazzo Brava, brava Scusa James, cosa stai facendo? Mi sto qui, sto giocando col cellulare Ma tu mi hai detto che non bisogna parlare al cellulare Brava, brava, cosa hai detto? Che non bisogna parlare al cellulare Brava, io che sto facendo? Non mica sto parlando, sto giocando Taci, taci, che sto superando Allora, ricordiamo come sempre la nostra pagina di Fanny Moon Cliccate mi piace per essere sempre a giorni su di noi E James, vuoi partecipare a questa chiusura? Sto partecipando, zitta, zitta, vai avanti da professionista Come stai facendo? Vai, vai, vai Ma cosa stai giocando, scusa? Candy Crash, non riesco a finire il quadro, mannaggia Io l'ho già superato questo Davvero? Sì Vai, finisci, finisci E finisce qui la puntata di Fanny Moon Finisci il livello così dopo l'ho posto Vai, 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 saluta, saluta Ciao ragazzi Tu farai strada, farai strada Eh, lo so Ciao 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 Anni Moon